Tutti zitti dice Zibi per evitare che dopo la beffa del campo arrivino anche altri danni dal giudice sportivo. Il nervosismo neccese di fine partita porta la stessa firma della gioia juventina e quella di Paolo Di Canio, il giovanotto che dopo aver scaldato per un tempo la panchina a 5 minuti dalla fine trasforma in una domenica vincente, una domenica di sofferenza anche perché subito dopo il fuorigioco nega Morello, quel pareggio che il Lecce avrebbe certamente meritato e che la Juve spesso aveva dovuto addirittura difendere. Chi si aspettava un Lecce intimorito dalla goleada juventina in Coppa sbagliava. Contro il suo passato Boniek conferma due punte, due marcatori fissi Garzia e Ferri solo su Baggio e Schillaci e quattro centrocampisti ad incrociarsi in copertura. Insieme a Benedetti e Carannante un ex e un probabile futuro juventino, Alenikov e Mazzinio a tamponare gli spazi e le idee di Hasler e Marocchi. Senza rifornimenti la coppia azzura del gol non punge e il Lecce non rischia, rischia semmai la Juve nella ripresa quando Maifredi richiama Alessio per il tridente. In campo entra Di Canio, in scena Tacconi. Una sua prodezza impedisce a Marino di segnare dopo aver saltato con eleganza la difesa in linea. Poi il portierone riceve Grazia proprio da Alenikov, bravissimo nel palleggio quanto sfortunato nella conclusione. E così l'affanno della Juve lo paga Schillaci, fuori lui dentro Casiraghi, poi i cinque minuti decisivi e già visti. Ma per Totò questa sostituzione che significa? Ma non significa assolutamente niente perché mi si è deciso di fare entrare a Casiraghi, c'era bisogno di un uomo di statura molto alta e quindi mi sta bene, non ci sta nessun polemico assolutamente, siamo in 20 e giochiamo in 20. Questo gol in campionato non arriva? Ma se si cerca non arriva mai, bisogna stare, innanzitutto bisogna giocare e poi quando non te l'aspetti il gol arriverà o prima o dopo. Ora torna ad Azzurro? Meglio? No, ma diciamo che è un'etapa importantissima, giochiamo in ingheria, quindi per me è importantissimo iniziare come se fosse la prima volta in Azzurro, quindi è fondamentale sì, giocare nella Juve sia in nazionale. Puoi tradurre questo pizzicotto di Maifredi? No, il miss è simpaticissimo, quindi il pizzicotto come l'ha dato a me come l'ha dato anche agli altri, quindi non è che è un affetto di simpatia che ha nei confronti dei giocatori. Ma non c'è niente da dire, abbiamo fatto due gol, tutti i due annullati, non so se era fuori gioco o non fuori gioco, però abbiamo preso un gol regolare, mi sembra, sarebbe strano adesso parlare dell'arbitrage, l'arbitra ha fatto sua parte e accettiamo Verdetto che ci ha proposto questa partita con molta amarezza e basta. Si è appena incontrato con Maifredi, cosa vi siete detti? Ma sai, in queste occasioni lui che è fatto da padrone ha detto bravo comunque, sai, cose che accettiamo, però comunque non c'ho nessuna importanza.